Ciao a tutti ragazzi, sono Sabasax, un nuovo video in cui oggi farò la prima lotta con cui testarò la mia squadra che ho fatto su Mega Venusaur Ho cambiato alcune cose, come vedete la squadra, ho messo, allora, grazie a Malaga, comunque mi ha dato alcuni consigli Ho messo, come ho messo a Sylveon, invece di intro forza tipo fuoco, ho messo intro forza tipo terra Perché comunque, delle volte vedi sempre comunque, dei Etran come ho messo nella squadra E inoltre perché ho già intro forza tipo fuoco su Venusaur, avere due intro forze uguali comunque non ha tanto senso, infatti avevi ragione Poi ho messo, ho cambiato due cose, ho messo anche Rotom Wash come difensore fisico e Rotom e Etran come difensore speciale Li ho alternati, e quindi diciamo che potrebbe essere ancora buono, e questi sono tutti gli ultimi cambiamenti che ho fatto, gli unici proprio Quindi dovete iniziare a cercare una partita Ok, abbiamo un Anscro, un Gyarados, un Geritos, un Garchomp, uno Scoliped, un Latios e un B-Sharp Per me, quel Gerito, per me il Mega potrebbe essere Mega Latios o Mega Garchomp Perché avere Mega Garchomp non avrebbe senso, visto che avrebbe già due tipi Buglio che soffre una lotta Quindi per me non è una Mega, ma è più un difensore fisico per resistere bene i colpi Per me il Mega Garchomp è un po' Mega Latios, sono i due Vedendo la sua squadra direi di iniziare, allora lui inizierà sicuramente con Scoliped Quindi, visto che inizierà con Scoliped, vado per Wrecking Your Ears No scherzo, vado per, che posso andare? Non so per chi iniziare Vabbè, vado per Wrecking Your Ears Infatti inizierà con il suo Scoliped, perché si fa di setupare sicuramente E a questo punto vorrei andare per Double Edge Tanto non ho nessun tipo... Visto che sono scattato, dovrei forza lockarmi in una mossa Andarei subito per Double Edge Metteremo per protezione, per prendere l'acceleratore E poi per andare in danza a spada, sicuramente, ci scommetto Spero che non sia Focustash, perché comunque un Double Edge Uno sdoppiatore da uno Stub tra Wrecking Your Ears Spacco culo Spero che comunque... Se c' broccoli sta la prezione come... No Non va per protezione Va per sostituto I'm a boss ass bitch I'm a boss ass bitch Ecco, ora va per protezione Se non hai la setupare, perché andava per sostituto Sto bitch Olha sto bitch Sto bitch Sto bika 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 bish Bika 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 bicha bika 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 bika, bika bich Bika 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 b oh hai rotto le palle basta basta hai rotto hai rotto il tuo sostituto non lo metterà mai il tuo sostituto non lo metterà mai bitch bitch il mio stab è troppo forte badon pass ok ha un mega latios ha un mega fottuto latios e questo mi mette paura perché un mega fottuto latios rust uccidilo vai di nuovo per rust sicuramente va di nuovo per rust ah ok ora è mega latios I'm a boss ass bitch 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 cazzo mi ho ucciso già il primo po' mi ho ucciso mi andrei per sylveon perché comunque in pratica uno diciamo un gran voce spexato potrebbe fare dei grandissimi danni a tutti quanti vado per il gran voce sword power I'm a boss ass bitch 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 ok visto che io devo partire sempre per secondo visto che sylvia non ha una grande difesa porco due c'è un po' che va per danza a spada perché una danza a spada da parte sua potrebbe spaccare il culo quindi vado per il mio visto che è difensivo può reggere i colpi benissimo soul stance cazzo vai se il fuoco fata non colpisce me incazzo me incazzo io se non colpisce gyarados perché sei nato per gaitos neanche la tua mega e soffri per 4 cioè che bitch what the draco danza per 4 deficiente ecco io ho già visto il rage quit qua vada già ho visto il rage quit è vero lo so che quitti percanto quittera eh non quitta ok ragazzi si vorrà risetappare con garchomp credo sia difensivo credo sia difensivo perché vedendo la sua squadra cioè vedendo ovviamente ci avrà il rocky helmet insieme a carta vetro set sicuramente protezione oddio sono difensivo brutto bitch 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 per chi va il bishop oh cazzo ciò parla di questo qua perché mi dà una paura garchomp cioè tu hai dragon rush chi cazzo ci mette dragon rush su quel che deficiente la gente deficiente la gente faccio pure rima bitch è la prima volta che vedo un e infatti ha scritto pre unique perché è l'unico garchomp che ho visto con questo set cioè il primo cioè per il terremoto non può andare o vai per drago furia o vai per dragarti gli oltraggio decidi proprio difensivo quindi almeno un colpo lo deve resistere ok ok ovviamente ora andrà o mi attacca oppure spero che colpisci questo idropompa colpisci questo idropompa perché se sei da palo sto bastardo e questo è un bastardo perché va col traggio almeno va col traggio si blocca in quella mossa e faccio pepe si be on pepe pepe you're going down mi ha scritto you're going down mi ha scritto andrai giù io gli ho scritto i'm yelling timber la canzone con la lalecosa comunque ho mancato un litropompa di merda sfortunatamente e ora le mortacci sua cioè non bastava il flinch senta il terremoto per questo vulcano con gambe che culo ha preso il flinch che culo che culo non flinch non flincio bastardo brutto testa di cazzo non flincio bastardo I'm freaking I'm freaking cr Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo brutto testa di cazzo Cristiano Ronaldo spero che riesce a resista un corpo questo bastardo perché se non ce la fa moro gamebbe mi servi tu ora mi serve tu ora cioè lui prende cioè ma io dico il culo che c'ha sto fregno il culo il culo c'ha un culo pazzesco ma due crit consecutive ma non può essere io non lo so io perdo soltanto per i crit cioè tra il flinch e quel cazzo di Garchomp due crit consecutive da sto cazzo di Hunchko che c'ha avuto sicuramente le scoplenze per aumentare la crit che cazzo porco cazzo 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 spero che sei fottuto guarda io spero che sei fottuto oh 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 gamebe cioè logicamente quando ho cercato di provare il team prima di fare il video avevo visto che il mio Eldran era ricamato vulcano con gamebe neanche con gambe gamebe poi l'ho ricorretto eppure femmina quindi ma la magia intanto qua sta sta pensando molto bene perché è così stupido e sculato che non riesce a pensare in quale modo non posso morire ora farà protezione ssh ssh protezione ssh protezione ssh ssh oh che culo potrei mancarlo bastardo bastardo testa di cazzo bastardo oh ho capito che sei felice che che ora dai tutto quanto a b sharp ma tanto l'intro forza fuoco non lo resiste mi sa che non l'hai capito testa di cazzo minchione bastardo io spero che va mega gorno su bastardo guarda data un passo vai b sharp b b i b b sharp porco del culo che c'è si gg bro flower power vittoria gg gg vittoria rocce kakura comunque ragazzi ho vinto yeah ho vinto sculata la vittoria ho uscito la weakness policy la vulnero polverizza ammesso gli ho dato l'attacco gli ho dato tutta la velocità tutto l'attacco è una cosa pazzesca venusaur che c'è 123 c'è stats mega venusaur c'è il 123 difesa mi ha salvato c'è una cosa pazzesca comunque ragazzi idea di finire il video qui questo è tutto ciao al suo video bella ragazza